Quello, quello poi, cioè da tenello come il santino del padoino Fermi tutti? Ecco che mi manca ragazzi il santino del padoino Fermi! Uhhh! Uhhh! Cos'è? E vuota da tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Quest'oggi siamo su FIFA Ultimate Team 17 Uhhh! Bentornati sul mio canale Come avete visto FIFA 16 non l'ho fatto più di tanto Ho fatto quell'Open Impact Ho fatto quella partita in Cop con Andrax Grazie Ma con FIFA 17 ragazzi parto subito dall'inizio Quindi oggi iniziamo subito con il grande Open Impact Per crearci una squadra per la Griffon Perugia Ah non ho ancora presentato colui che mi è vicino L'UPE 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 VIA Pronti subito Pacchetto oro premium Normale Perché non è il maxi Abbiamo 4600 FIFA Points Partiamo Prima FIFA Points Avvia Ti prego Ed eccoci subito ragazzi Ti prego È normale È Brooke 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 Grazie a teo È Brooke 79 79 79 E già partimo male Bene Va bene E lui TS Schalke Mi piace Ce l'ho avuto l'anno scorso Ho fatto la squadra l'anno scorso De tedesca Bundesliga Mi piace con la Stisky Chi Attento Lupin portami l'oro Portami Ronaldo Portami Ronaldo Portami Ronaldo È lui È un oro Solo per voi Fernandez Ti chiamo tutti Fernandez Milo Milinkovic Cavic Ragazzi Le magliette Tanto 64 Si tocca fare la Lazio Lupin Voglio Voglio Messi Voglio Ronaldo Eh lo so Anch'io No non voglio Luca Denaro Non voglio Dexter No Maria Io esco Ma che cosa Dai che è buona Dai che è buona Non è buona Ma chi è? Ma co? È il zar È lo zar È lo zar di Rossio No 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 È lo zar lo schiacciatore del Perugia È la palla pure Sbeto Sport Bellissimo ragazzi Ragazzi allora Il pacchetto Il pacchetto dice Contiene il tripo degli oggetti rari di un pacchetto oro standard Include 12 oggetti compresi giocatori e consumabili a meno 10 oro di cui 3 rari Io finora 3 rari non l'ho visti Tu? Io non l'ho visto neanche i giocatori seriamente C'è È un oro raro Attaccante È un attaccante Del Tigres Gignac Oh il primo E beh ti pareva che è nera della Via Questo intanto Doppioni Non via intanto alla lista trasferimenti che non si venderà neanche per sogno Ma chi lo vuole? Oro Ma perché? Dempsey Va bene Ma perché? Divisa dell'inizio ragazzi Vabbè ragazzi Dai questa porta Balotelli Taddo La divisa dell'inizio a porta Balotelli Sicuro? Oh Balotelli è il Centi? È vero piove Anche la pioggia Ragazzi la pioggia E la divisa dell'inizio a portano Balotelli Io ve lo dico Cioè dice porta guadagno Come il ragno Magari chi ne sai Balotelli if 90 Oh Guarda È un oro raro Tommà Ma che è fortissimo Guarda Eldon Ma Eldon del cavolo Velocità Ti piace la velocità? Gliel'hai detto Ma non so manco dove va Ma non so manco dove abita questo Ma dove abita Ma guarda la bandiera Ma lui abita qui dietro Io Chi ha questo soggetto? Che cosa? Aspetta Aspetta Torni dietro Torni dietro Ragazzi La sinistra È la bambina di The Ring Ragazzi ha trovato la bambina di The Ring No 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 Che stai trovando? Ci troviamo nifo veramente Niente Non vado a normale Dici Squillaci Pronto Ah no Del Bastia? A vita di qui Bastia 1 Sì sì Certo McGregor Borriello A posto Ragazzi vi saluto Ci troviamo l'attaccante Ciao 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 Ronaldo Ma chi temone Io fa come vieri Io voglio i pomperoni Pavo Udinese Asano No Sì Asano Dove Dov'è lo scarta E non nello stemma della Lazio Via Ti voglio dare lo stemma della Lazio Non so che lo stemma della Lazio Grazie FIFA 50 Guarda Pigliatela Manco te voglio più vede Mamma mia ho visto il diavolo Ho visto il diavolo Usami Usami Ma in che senso scusa Io ti uso solo se sei dentro a un campionato normale Esatto Piggia il bottone No solo con Ah solo con il bottone Sì perché sono con la presenza del test Allora aspetta In frattempo tu Metti l'altra mano Perfetto Dai che questo è buono Dai che questa è buona No è un oro raro Un oro ravo C C United E questo è Gerrera Anderrera Eh taddo cominciamo Beh vabbè già capisco che devo puntare Prima che ho visto Mai Ma la spada è la premier Tanto ci facciamo Speriamo Però vieni come ci saranno Quello Quello poi C'è da trello Come il santino del padone Ecco che mi manca ragazzi Il santino del padone Fermi Cos'è No 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 È spagnolo È spagnolo Quanto è il loro È lui È lui Sergio Buschetti Oh il santino trova We are the champions Ragazzi Uno minuto padone Sì 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 Ragazzi Sì 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 Ragazzi Uno minuto padone Ma quanto trova Buschetti Ragazzi Il padone fatto ma alla domani Vestampo padone Di qui Sul muro padone Mamma mia ragazzi Che ce frega dei guai Noi c'avevo padone 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 Senti attenti Questo è un altro Fogo d'artificio Un piccolo Fogo d'artificio Adi Porto È È È Corona Corona Ma senti ma Però vabbè Ha ben capito che Padone No ha capito Lui è forte perché Si beve gli avversari Quella è la porta Chi è questa? Aspetta aspetta Su le mani Su le mani Su le mani Tutte su le mani Mamma mia Allora Dai che ci siamo Passiva Che ce frega Padone Vabbè dove Ovvero l'alto Canadeese Ma chi è? No ragazzi Più Padone Mamma mia Una volta è successo E una volta fu Fernandino Iurente Suanzi no? Suanzi Cavoli Premier anche qui Eh lo so Bruciatela Bruciatela Scarta Altri 59 soldi Devi farla Lazio Devi farla Lazio No Via Ciao Padone No e magari Quando apro Ah ok Scusa Allora ma sapevi De Giuseppe Che fece Padone Padone E vabbè due fe Ricci Atletico Lui è Gimenez Vabbè Gimenez No Gimenez Non ce l'ho Gimenez Si l'ha preso prima No no Sì No no Fidati Guardaci C'è ragione Mamma mia Padone C'è Patti Fernandino Torres Che potrebbe Oh Potrebbe giocare A fianco Degli Orente Però Sarebbero due torri È un casino Ultimo pacchetto Ultimo E questo L'affido A Simone Padone Simone Simone Che è meglio Di Higuain Ororaro Ororaro Brasilienio Chi sei Ganso 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 Che bui Ragazzi Il nostro opening pack Finisce qua Come avete visto Abbiamo trovato L'unico È vero Acquistone Grosso Adesso lo mettiamo Ma grosso 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 Abbiamo trovato Il più forte Busquets 87 Dopo Gimenez Gignac Herrera Ragazzi Il video finisce qua Come sempre Iscrivetevi al canale Commentate Condividete Mettete un mi piace Passatevi le pagine social Via Grazie a Lupen Che mi ha trovato Busquets Grazie a Simone Padoin Santo Subito La prossima volta Ragazzi Prossimo opening pack Con il santino di Padoin Qui Qua Anche sulla faccia Sì Ci vediamo Al prossimo episodio E sarà La presentazione Del Grifon Perugia A tutto Ciao Pepto Pepto Ha